ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a voi che state guardando ebbene sì un'altra puntatella di quelle dedicate ai vostri video e vostri orologi e voi stessi cioè praticamente diamo un'occhiata alle vostre collezioni di orologi le commentiamo tutti assieme io qua voi sotto e così ci scopriamo un pochino cosa tenete in casa gli altarini che avete pezzi belli tutto ora sono sicuro che qua qualcuno vi farà gli auguri di natale anche qua perché ricevo tantissimi video e faccio fatica a smaltirli ho preparato sto preparando una puntata di san valentino cioè 14 febbraio nella quale metto dentro il numero più alto possibile di video appunto per cercare di smaltirli quindi verrà fuori una puntata fiume una maratona per la serata di valentino san valentino così quelli che poi che sono senza fidanzata te che stai guardando che sei solo come un cane la serata di valentino puoi passare guardando quell'ora e mezza passa due ore di video che ci sarà li butto tutti dentro così cerchiamo di smaltire come partecipare lo sapete io vi invito anche se non ce ne sarebbe bisogno perché ripeto ricevo quattro cinque video al giorno sarebbero sufficienti per fare una puntata la puntata vengono fuori un giorno sì un giorno no un giorno un giorno no un giorno nu quindi prima che li smaltisco ci vuole comunque speriamo di riuscirci di metterci un pochino in pari no diciamo così l'orologio del giorno è un periodo che indosso sempre questo rolex digest 41 39 mm di diametro cassa 39,5 a dire il vero quadranante nero indici in oro ghiera in azzigrinata lunetta azzigrinata in oro giallo bracciale giubilì in oro è tutto uno sfarfallio un luccichio uno scintillio come si suol dire ora che vi ho presentato l'orologio l'orologio della domenica passiamo ai video barra spaziatrice pronta indice pronto fuoco li uniamo insieme e scatta la scintillona ciao a tutti gli amici del canale sono davide dalla provincia di varese e volevo condividere con voi lo stato attuale della mia collezione e anche quello della mia compagna vai partirei infatti brevemente da lei facendovi vedere i suoi orologi lei ha un piccolo casio che usava anni fa prima di passare ai meccanici me lo tondo successivamente ha virato su un tisole l'ocle con un bellissimo dial in madre perla e movimento powermatic 80 e poi ha fatto un excursus nel vintage ha acquistato questo must de cartier degli anni 90 in ottime condizioni che però è quarzo e batteria perché è ultra sottile e giustamente da donna ultra sottili significa batteria batteria un particolare bello omega de ville automatic che tecnicamente sarebbe un orologio unisex ma per le dimensioni attuali effettivamente è più per polsi femminili che non maschini ultimo ma non per importanza un bellissimo cartier tank una misura h3 con un dial spider questo è argento 925 placcato oro 20 micron strano molto 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 fine e raffinato bellissimo invece a me tutti i top mi sono dimenticato ma acquisti alle bancarelle che bello praticamente sono acquisti fatti in fretta e furia cose che mi avevano colpito e che mi piacevano qui c'è un seiko 5 del 1974 particolare con indici sfere lollipop mettiamola così un po' giocosi un po' a caramella poi un particolare rohan con un dial tropical se questo è presumibilmente fine anni 60 inizio anni 70 in cassa unità 2772 un automatico è un un orologio particolare effettivamente non ne ho mai visti altri è un marchio di quelli scomparsi sconosciuti però ha tanto carattere marchio sicuramente che io non conosco di quelli scomparsi negli anni 70 no come funghi scomparsi è bello però come volevo far notare come si riesce a trovare un termine poetico romantico accattivante per ogni difetto che esiste al mondo no il quadrante tropical il quadrante tropical è semplicemente fiorito dalla muffa capito cioè un difetto è invecchiato e tropical questi qua sono i termini che si importano dalla dal dizionario del bravo rolexaro è il quadrante spider cos'è il quadrante spider è il quadrante rotto tutto crepato tutto crepato perché sono sbagliati hanno fatto un loto di quadranti e spider perché la ragnatina di un ragno hai capito come e quindi lui ma di che bello che è fiorito che c'è le sue belle sfumature di vecchiaia no ma tropical ultimo ma non ultimo questo seiko dx sea lion è un m55 lo conosco effettivamente se ne sono visti pochi sul canale se ne ho trovati anche pochi in giro è interessante è un orologio grande per l'epoca perché un 68 1968 come si evince dal seriale per un 38 mm di diametro bello grande abbastanza grosso bravo bravo bell'orologio poi successivamente micro brand micro brand abbiamo douglas che è un'azienda rilevata da walbrock produzione francese fanno skin diver fanno crono con meca quartz questo è interessante perché tecnicamente è un orologio replica di quello che loro stessi realizzavano negli anni 60 vetro esalite e questo incassa un iota della serie 8000 nulla di particolare però ben fatto ben proporzionato è un 38 mm di diametro scusami ma la clasp qua io la vedo che c'è la doppia v come come volbrock quindi usano i bracciali di prima bracciale a chicchi di riso veramente ben fatto con una bella clasp e bella lunga tutto tutto pieno maglie piene finali pieni va bene altro micro brand che non ho mai visto qui sul canale nautage non ho idea di come si pronunci però è una micro brand danese che incassa un miota serie 9000 è praticamente quasi un bracciale integrato con questo particolare cinturino gomma che effettivamente può essere cambiato solo con altri cinturini della loro marca mamma mia non mi piace successivamente gli orologi più belli del mondo a cui mi do da solo il top perché sono gli orologi che mi ha regalato la mia compagna abbiamo un emilton da khaki khaki king con un eta questa è ancora la vecchia produzione con il diet champagne che se ne vedono pochi effettivamente champagne successivamente l'altro top è un bellissimo skx in questo caso un skx 11 produzione giapponese a cui ho sostituito il bracciale in gomma terrificante e messo questo classico giubilì originale che sono riuscito a ripetere viva le skx poi orologi moderni orologi moderni abbiamo uno yema in bronzo questo è un superman superman heritage che incassa il loro movimento di manifattura e questa era un'edizione limitata erano solo 150 pezzi mondo con la particolare ghiera color bordeaux e tutti gli accenti gilt molto bello colore poi squale 1521 questo è uno squale ray skin inizialmente arrivava con il suo bellissimo bracciale in pelle di razza azzurro che però per me è troppo delicato quindi ho tolto e ho sostituito con questo scamosciato io stesso ho cambiato le cuciture le ho fatte arancione come la lancetta in modo che tutto tornasse a livello bravo bel lavoro complimenti piccolo escursus ancora nel vintage questo pr 516gl questo è del 72 in ottime condizioni completamente restaurato sistemato a scatola originale documenti originali è un bellissimo orologio anche se è un cas 36 veste molto più grosso l'ho cercato da tempo e soprattutto l'ho cercato in questa particolare variante di automatico che ha la rimessa rapida della data premendo la corona molte varianti invece hanno la rimessa rapida solo cambiando l'ora spostandola dopo la mezzanotte triboloso e ora veniamo alla vera e propria collezione che è la collezione dei cronografi partiamo da questo che è un vecchio dreffa è un cronografo di fine anni 50 presumibilmente un 58 59 cassa acciaio completamente anzi cassa bronzo con la placatura perdono l'acciaio sarà ottimo completamente restaurato e questo incassa un venus come movimento molto interessante come tipo di prodotto perché rimane veramente molto moderno e il valore percepito dell'oggetto è molto elevato sembra sembra davvero un orologio con un valore molto più elevato di quello che è ma in realtà effettivamente per per i tempi era un semplice crono un crono specchietto per le allodole che alla fine negli anni 60 in svizzera venivano prodotti questi orologi in oro 18 carati come si vede completamente martoriato perché era un una cassa vuota era una cassa molto delicata e veniva più che altro realizzato come prodotto per i turisti turista arrivava in svizzera cioè fammi capire questo qua è una cassa vuota all'interno per cui ogni colpo che prende c'è una bombatura come fosse la carrozzeria della macchina è una cosa vergognosa cioè non capisco io cioè utilizzi un materiale pregiato l'oro 18 carati e poi lo fai vuoto e allora mi perdi tutto il pregio della costruzione allora tanto vale che me lo fai un bel acciaio inox pieno vale di più secondo me secondo me vale di più un acciaio un acciaio inox solido che non un 18 carati vuoto dentro è come buttare la spazzatura sotto al tappeto vedi pulito e sotto c'è sporco qua vedi l'oro e dentro è vuoto 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 boh l'inizio era era incuriosito dai cronografi dell'epoca e portava a casa souvenir il contenuto c'è perché in cassa on land era un 48 però effettivamente la cassa e i materiali e la struttura in sé sono abbastanza carenti mamma mia poi sempre mi 60 68 un bellissimo omega cronostop bello questo è tutto originale con il vetro ancora logato la corona logata come piace dire agli utenti è coevo è un orologio eccezionale carica manuale in condizioni spettacolari questo l'ho cercato e l'ho voluto per tanto tempo a un prezzo importante ed è un prodotto quasi dimenticato però ci sta è troppo particolare ed effettivamente è troppo avanti coi tempi perché per essere un prodotto del 68 si ora me quello che non mi piace che non c'è la praticamente cronostop cos'è solamente la funzione cronografo la lancetta arancione che vediamo qua con il pulsantino via stop reset monopulsante no e calcoli però senza lancetta dei secondi continui a meglio orologi non mi vanno giù ragazzi è una cosa che non riesco anche ora ultimamente sto guardando certi panerai per capire quale potrebbe essere perché ho voglia ho voglia mi è venuta voglia conclamata ormai di avere un panerai no però c'è una marea di modelli tra quelli di secondo polso nuovi diametri calibri la marea che un giorno ti piace uno dici no però forse questo qua è meglio una cosa di cui sono sicuro è che deve avere la lancetta dei secondi cioè io non posso caricare un orologio sistemarlo lì pronto ora esco sta funzionando boh non vedo non c'è la lancetta dei secondi quindi tocca lì aspettare due minuti due minuti che si muova la lancetta dei minuti appunto per capire se funziona e se poi non volendo non si muove allora puoi anche pensare no ma ho sbagliato io e stai lì ancora due minuti aspettare poi riguardi fa due minuti ma funzionerà o non funzionerà e io devo andare avanti così per tutta la giornata a vedere se funziona o non funziona l'orologio uguale quando sei in giro no guardi l'orario poi dopo te lo dimentichi ma prima sta andando avanti o non sta andando sta funzionando non sta funzionando funziona no la lancetta dei secondi per me ci deve essere ragazzi è così design secondo me veramente veramente avveniristico e quell'epoca omega e comunque le case orologie in genere lavoravano veramente veramente bene veramente veramente poi anni 70 seiko chiamato bruce lee è un il primo cronografo tecnicamente il primo cronografo entrato in commercio vediamo la storia mai venduto anche lui completamente restaurato o il vetro ancora da cambiare con qualche piccolo crack per il primo cronografo della storia venduto insomma ho capito cosa vuol dire primo cronografo automatico della storia venduto perché manuali c'erano già è quella più o meno è sistemato non sono ancora riuscito a trovare il suo bracciale originale perché originariamente dovrebbe montare un bracciale di tipo rail lo cercherò lo monterò e gli darò sicuramente un pochettino più di dignità in futuro bravo momento ci abbiamo messo questo simpatico milanese con passo da 19 perché questi purtroppo hanno tutti i passi da 19 sono difficili da trovare i bracciali venendo agli anni 80 primissima serie del breitling cronomat questo in cassa un 77 50 con il suo rarissimo e originale bracciale rollo o bracciala cartucera cavalieri in oro i contatori in oro e bellissimo dai il dial in questo nero opaco che mangia fisicamente tutta la luce e in questo modo i dai e catturano tutta l'attenzione è un po pesante a livello visivo un po pacchiano onestamente però mi piace tantissimo la cercato per tanto via l'ho voluto per tanto tempo e non so se riuscirò a liberarmene anni 90 93 per l'esattezza è un omega 39 un omega automatic in questo caso una particolare variante pensata solo per il mercato giapponese perché un reverse panda era stata venduta solo in territorio nipponico tenuto benissimo perfetto con garanzie tutto originale dell'epoca particolarissima la sua corona di carica esagonale effettivamente sono solo su questi modelli è un prodotto veramente interessante io preferisco le dimensioni piccole perché avendo un polso da 16 e mezzo mi trovo più a mio agio con orologi di questa tipologia effettivamente rimane molto 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 bello affascinante e sportivo ed elegante nel contempo ultimo ma non ultimo ma purtroppo ultimo del 2002 è la versione post big block qua non è già più marchiato rolex ha già tutti i marchi tudor la versione della cassa è già la versione quella un pochettino più slim quindi è meno pesante al polso meno grosso e fastidioso da portare è un orologio bellissimo cioè vede poco effettivamente è un orologio che ha una fortissima personalità ed è un orologio che ha fatto proprio da spartiacque per tudor che ha scisso la produzione precedente con quello attuale ma per il momento temo che ci siamo detti tutti non sono stato negli otto minuti ho sconfinato di qualcosa però è stato un vero piacere essere qui con voi grazie davide è stato davvero davvero un piacere piacere mio ciao 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 sì insomma non me ne sono nemmeno accorto vedi questo di quei casi in quel tempo passa veloce perché perché c'è trascinato dentro nel senso che allora tutti orologi che dei quali uno nuovo di pacca non lo vedo forse c'è lo squale uno squala però per la maggior parte sono orologi di secondo polso o vintage dei quali conosci anche le caratteristiche tecniche la storia un minimo di un minimo di infarinatura attorno all'orologio c'è c'è si vede che gli hai scelti con cognizione di causa e gli hai scelti perché volevi quel particolare orologio che gli presti cura anche nel cambiare solamente fosse un centurino ha visto le impunture l'hai cambiato quindi questo è il collezionismo che mi piace diciamo la verità piuttosto che avere tanti orologi messi uno lì dietro l'altro senza sapere poi ragazzi non è che si può sapere tutto di tutto come è anche difficile ricordarsi delle cose no è anche il bello quando uno passa agli orologi ricordati un po tutte le caratteristiche che avevi studiato nel momento in cui l'hai voluto comprare non succede anche a me voglio comprare un orologio mi studi le caratteristiche so vita morte miracoli questo e quell'altro poi da lì fra tre quattro cinque mesi arriva un amico a spiegargli tutto quello che avevo studiato qualcosa mi dimentico no quindi magari è logico che non si può sapere tutto però il nostro amico qua ci ha dimostrato che si può essere dentro alla collezione di orologi in un certo modo questo è quello che mi piace a me probabilmente piace anche a voi cioè anche se non c'è un pezzone da centomila euro sui pezzi scelti con cura e con passione la passione la passione è quella che ci ha comune da prossimo video ciao davide ciao da un paesino delle madonie vicino c'è valo in sicilia ti mando questo video ed è il risultato della passione che tu hai infuso in me dal maggio del 2022 quando ti ho conosciuto grazie ho cominciato a studiare a seguirti a seguirmi però guardiamo un pochino perché l'amico ha trovato il sistema intelligente per mostrare gli orologi e e lo specchio no si vede il suo faccione ha un bel trucco questo per far vedere il proprio poi c'è lì cosa c'è di cuore che vuol fare un po un po di un po di concorrenza a me poi c'è una camicia che cos'è quel lavoro azzurro lì non lo so va bene dalla finestra laggiù niente non è che ci deve tante informazioni però continuiamo sempre di più e gli orologi che ti mostro sono quelli acquisiti proprio nello stesso anno nel 2022 va bene perché non ti mostro gli altri perché non ce la faccio a contenerlo nei tempi previsti per cui ti manderò poi un secondo video se vorrai mostrarlo in cui ci sono gli altri e quindi il bando alle cianci iniziamo subito partendo con il primo orologio già nel giugno del 2002 quindi subito dopo aver conosciuto te facendo tesoro di una tua recensione di questo orologio me lo sono comprato di secondo posto e lo conosciamo tutti è un kamasu un oriente kamasu movimento basico va bene molto grazioso molto bello molto affidabile stabile no perché dici dopo aver visto la recensione l'ho preso bla 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 quindi a un certo punto mi viene la domanda spontanea no a chi ha preso qualcosa dopo una mia recensione una voglio una controprova no un feedback avevo ragione su quello che ho detto c'è qualcosa che ho sbagliato ritieni ci siano delle cose da aggiungere su quello che ho detto io oppure ah david hai fatto una bella recensione tutte le cose che hai detto sono vere e mi rispecchiano l'orologio ecco questo sarebbe un feedback interessante anche da avere qualcuno che sul campo dice sì questo scemo qua ha detto le cose giuste i day watch se vogliamo ecco il suo centurino che non bisogna di cambiare perché a me il centurino anche se non è eccesso ma se comunque piace e quindi me lo tengo intanto magari gli metto il gommato il silicone per l'estate va bene così dopo questo orologio mio figlio saputo della mia nuova passione praticamente mi regala questo orologio qua è un tisseo couturier del 2011 questo orologio è su base ETA lo rimarco perché è ancora in catalogo per ora ovviamente esce con il powermatic 80 scritto qua sotto questo ancora invece è proprio l'originale l'originale originario mi ricordo se 28 36 comunque è un orologio diciamo da da occasione da vestito non è il suo cinturino originale ci tengo a dirlo perché purtroppo si è distrutto si è disintegrato si è rovinato del tutto e quindi ho dovuto mettere l'unico cinturino con passo 22 mm mentre che avevo è questo oddio non è che ci stia malissimo però diciamo che non è proprio adatto a questa tipologia di orologio almeno penso io successivamente a questo orologio sono passato a cosa visire grazie al mio orologiaio di fiducia a palermo questo movado zenit è un orologio del 1975 su alibro zenit 25 72 pc ha una cassa particolarissima perché come potete vedere ha prendendole di forma quadrata perfetta e poi ha delle concavità su ogni lato che mostrano il vetro zaffero il dial è molto bello il blu elettrico devo dire ho abbinato questo cinturino con le cuciture a contrasto che richiamano il dial un orologio a mio parere veramente bello molto bello per non parlare della precisione del calibro che va bene è conosciuto che bello questo sito dopo mi piace novembre del 2022 appassionato mi anche dei microblende italiani incontro diciamo grazie anche a una tua recensione il signor calamai mando delle delle comunicazioni abbiamo delle comunicazioni tra di noi anche tramite instagram e acquisisco questo mk3 blu è un orologio che tu conosci bene la comunità conosce penso ormai bene è meraviglioso io questo orologio lo amo letteralmente perché insomma in questo orologio c'è tutta la passione del signor francesco la cassa particolarissima ottenuto no ma più che altro che io lo guardano mentre tu lo stai girando e non lo vedi che sembra sembra artigianale cioè lo vedi che sembra la corona zigrinata la lunetta si vede che sembra uscito dalla macchina proprio da poco che te l'hanno assemblato proprio fatto che non è un prodotto da catalogo no infatti come dice ti rispecchia la passione del buon francesco dall'acciaio delle turbine delle f 104 un dial molto bello soleil aggiungo altro il movimento e sellita sv200 top grade molto preciso è un orologio che indosso con grande piacere tutti i giorni un grande piacere ogni tanto cambio il cinturino perché questo è talmente bello che ho veramente paura di distruggerlo di rovinarlo perché è un cinturino di una qualità eccelsa e questo è il regalo che mi sono questo è il primo orologio nuovo che mi sono comprato perché per il resto sono tutti i secondi polsi subito dopo nel dicembre voglio fare un regalo di natale mi appassionano a passione al vintage e grazie anche all'aiuto di un altro membro del gruppo telegram anzi ora fra poco rimarco questa cosa del gruppo telegram degli amici di davide cecchini grazie a marco acquisisco questo certina ds è un orologio molto bello del 1965 sono anche ai tempi diciamo aveva una grande notorietà all'interno di quello che nel mondo e l'orologeria e che ma anche oggi ce l'ha e la notorietà solamente che in italia non è importata per scelta del gruppo swatch e quindi a noi in italia ci sembra che non esiste più che non ha notorietà che non c'è marketing in realtà negli altri paesi europei e mondi del mondo certina che poi la cosa curiosa che ogni marchio ai suoi mercati preferiti o meglio ci sono mercati nei cui preferiscono un certo tipo di marchio rispetto a un altro e sarebbe anche curioso fare una sorta di mappatura e vedere un po tipo in polonia amano i boom e mercy e il rado che ne so la dico così magari no invece in spagna amano certina e è un altro marchio a caso perché varia che da paese a paese che questo è cosa dipende dipende anche dalle radici dai tempi come in italia longin in italia longin va molto perché è sempre stato l'orologio di pregio degli anni 60 50 del nonno è capito quindi rimane anche questo questa aura intorno al nome e negli altri paesi ci sarà un motivo simile o particolare capito che ha brevettato delle soluzioni tecniche ingegneristiche veramente interessanti come appunto il ds il double security che protegge il movimento interno questo orologio lo acquisito appunto a dicembre ed allora non mi lascia è uno di quelli che sicuramente terrò per sempre perché veramente iconico e bello bravo ecco quel fondello con la famosissima tartaruga ninja oggetto di una disputa legale con eberhard anche tu hai raccontato nelle tue recensioni veramente molto bello e niente io mi fermo qui senza prima aver ringraziato te ovviamente per la passione che non ci metti in questa in questa passione in questa in questa cultura dell'orologeria meccanica e voglio anche ringraziarti per il canale telegram perché praticamente è un canale che vive ormai di vita propria ci sono settimila quasi 600 utenti sì ragazzi non lo dico mai qua sotto in descrizione nel video sotto ci sono tante informazioni utili che uno basta che clicca su altro altro brum si apre una smandrappata di notizie di informazioni tra cui c'è il mio account instagram c'è il gruppo telegram dove parliamo di orologi ci sono gli orologi che consiglio franca non guardateci mai sotto sotto il video nella descrizione tutte le cose che ci sono scritte non guardateci voi andate avanti andate avanti con dito in bocca pin 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 non leggete ma e desidero ringraziare tramite questo video gli amici faust appunto marco gli amici buzz bob zenit il buon leo lorenzo bod the tenant stefano non li posso nominare tutti perché siamo veramente tanti nel gruppo però un gruppo molto importante perché ci si aiuta fra di noi e aiuta a crescere nella cultura dell'orologia meccanica e non solo quindi grazie tanto tantissimo davide veramente tante grazie e ti passo ecco la sorpresa ti passo in collegamento palermo mio figlio perché devi sapere che ho ovviamente trasmesso come tu hai fatto con noi anche io con i miei figli trasmesso la passione per cui da palermo in collegamento mio figlio antonino in collegamento da palermo un saluto a davide a tutti gli appassionati di contatori del tempo contagiato dal padre vi mostro anch'io un paio di orologi vi risparmio subito le ciofeche partiamo con questo vostro che comandischi carica manuale un orologio senza troppe pretese è indistruttibile come tutta la serie vostro che insomma un orologio che indosso nella mia quotidianità bello che ho caro armato insomma dove rischia di essere urtato comunque danneggiarsi è veramente un caro armato c'è caro armato sopra poi il mio orgoglio è chiaramente l'emilton il kaki field marfe orologio indossato dalla protagonista del film di nolan interstellar un 42 mm movimento eta automatico riserva di carica 80 ore insomma gioiellino gioiellino un dono di mio padre non posso che essere immensamente affezionato certo questa è la mia collezione ancora molto discreta passo la parola a mio fratello in collegamento da napoli un saluto di nuovo cos'è tutto un collegamento mi state percolando mi state rimbalzando da una città all'altra di qua e di là passo il collegamento quale cioè uno sporco trucco per fare più video in uno solo a proposito di palermo ci sono stato a palermo gran bella città perché mio amico mio amico piero è di monreale no quindi sbarco palermo poi lo trovava in giro quella sono rimasto abbastanza sorpreso non voglio dire sconvolta quando ho visto quei due su una vespa chiaramente senza casco uno scooter senza casco e con anche la scala la scala due metri di scala in mezzo a uno e l'altro così senza casco sono passati davanti al posto di blocco naturalmente e via quando succedono queste cose ciao davide un saluto a te al canale mi chiamo gaetano e oggi volevo presentarti questi tre orologi che mi sono stati regalati da mio padre con lo scopo di avvicinarmi al mondo dell'orologeria partiamo da questo vagare un quarzo ricarica solare che apprezzo molto per la sua semplicità e per il fatto che contenga questo canji nel datario essendo io uno studioso di lingua e cultura giapponese poi un vostro che di cui non mi dilungherò avendone già parlato mio fratello nel video precedente dirò solo che la qualità principale la qualità che più apprezzo del vostro che è il fatto che si tratti di un orologio estremamente massiccio mi piace anche questo fondello chiuso rappresentante lo stemma russo che a mio parere conferisce una maggiore solidità al tutto e poi ultimo per importanza il mio preferito questo 6.5 70 19 degli anni 70 del 70 anche questo contenente il canji nel datario del quale apprezzo tantissimo la cassa a forma di cuscino che me lo fa stare molto bene al polso nonostante io abbia un posto un polso molto piccolo ma soprattutto anche la scelta cromatica all'interno del quadrante che mette in risalto lo sports blu con la lancetta dei secondi rossa che dire niente mi piacciono molto questi tre orologi spero diciamo che siano l'inizio di una collezione più ampia un saluto e baci baci e abbracci allora abbiamo avuto l'amico con i suoi due figli che hanno fatto mi hanno fregato hanno fatto tre video in uno e io cato e li ho pubblicati tutti e tre tutti i belli orologi e poi è interessante cioè è difficile anche che tutti e due entrambi i figli a prendono la passione anche del padre no un po difficile qua mi viene in mente il paragone con uno degli ultimi video che ho pubblicato dove c'era l'amico milanese no il ricco con il figlio principe al quale chiaramente regalava i vusi o demar pighiero ialucchi in oro massiccio no tiene questi qua sono lo devo lo devo lo voglio tirare dentro dicevano gli voleva insegnare la passione facendogli vedere regalando gli orologi da 50 60 mila euro 70 mila euro la cosa è po differente mi sembra che anche il risultato sia l'altro era piccolino un po differente nel senso che con gli orologi con i secco 5 comandischi con il vostro bla 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 i due ragazzi sono entrati nella passione a testa bassa proprio ci sono cascati con i piedi perché descrivevano gli orologi anche in maniera passionale a parte a parte l'ultimo non mi ricordo che sembrava un pochino la macchinetta precisa no magari più giovane dell'altro piti 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 però si vede che insomma un minimo di passione ce la mettono anche loro no quindi ha funzionato il babbo li ha riuscito a tirare dentro i due figli e a far unire tutta la passione però incominciando dagli orologini economici alla portata di tutti bravi 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 non sto a commentare orologio per orologio perché più o meno li conosciamo tutti e da complimenti prossimo video ciao davide ciao sono gian maria dalla spezia come vedi non sono in palmaria bensì in thailandia a freedom beach ti mando il video per il mio nuovo arrivato in collezione di questo natale l'ho battetato ha fatto i suoi primi dive che è questo citizen full loom abbiamo fatto qualche immersione e si è comportato bene come si dice ha fatto il suo certo sono stato qui in un centro commerciale a vedere qualche orologio qui hanno marche tipo seiko citizen e ho visto che mediamente anche con gli sconti sono prezzi più alti rispetto rispetto che da noi rispetto all'italia ero intenzionato a prendermi sempre un diver un un seiko ma in italia si risparmia qualcosa eh vabbè niente tutto qua tutto qua un saluto a tutti voi del canale ciao 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 amico di lo spezzino va in thailandia al mare buon natale ha detto buon natale l'avete sentito quindi siamo siamo ancora ai video di prima di natale pensate niente ci ha fatto vedere il promaster ci ha fatto un po di invidia a natale va al mare in thailandia lo snob no capito lui poi tira fuori c'ha il promaster va bene dai se sei perdonato te lo pubblico il video perché è anche simpatico ci fa un po ricordare ora arriva l'estate arriva l'estate arriva l'estate ci vuole l'orologio per l'estate quindi io ci ho già due in mente due un citizen promaster probabilmente il marine e un panerai tutti e due da portare al mare a farci il bagnone farli divertire un pochino vediamo un po dai ciao davide ciao da moncaglieri saluto a te e tutti gli amici del canale amici e complimenti per i bellissimi video che ci regali ormai quasi quotidiano grazie allora io inizio col dire che la mia passione per gli orologi è nata circa cinque anni fa quando avevo 30 anni grazie prima ho avuto qualche quarzone ma non ho non avevo mai considerato più di tanto ecco i segnatempo e da cinque anni iniziato a collezionarli oggi vi e mi sono appassionato ovviamente oggi vi mostro una parte della mia collezione che è quella relativa agli orologi giapponesi partiamo ciappa la casa citizen dai con calma questo cronografo che vi mostro ecco drive e questo è l'unico quarzone giapponese che ho però un orologio carino ecco drive citizen in collezione lo volevo titanio ho scelto questo qua super titanio molto leggero comodo da indossare non si sente praticamente al polso e poi titanio quindi non si sente diciamo molto molto difficile da graffiare molto molto robusto assi ogni tanto lo indosso con piacere oh bravo con piacere poi sempre in casa citizen vi faccio vedere questo vintage già visto condizioni bellissime questo è un orologio a cui sono particolarmente legato perché è appartenuto al mio nonno materno che lo indossava quotidianamente quando era in vita ormai non c'è più da circa 25 anni io però bambino quando è mancato e questo l'orologio è rimasto una ventina di anni in un cassetto e poi appunto quando è nata la passione ho deciso di sistemarlo gli ho dato una nuova vita l'orologio era in condizioni eccellenti e nonostante fosse stato utilizzato quotidianamente ho solo cambiato il vetro e gli ho messo questo cinturino ho anche il suo bracciale originale ma non mi piaceva tantissimo perché era un acciaio oro placato preferito mettere questo trovo che sia veramente molto bello se nei limiti del possibile poi passiamo in casa seiko vai bestia innanzitutto il primo che è questo classico diver samurai bello samurai che tutti credo ben conoscete che era pepsi un orologio che mi piace molto è uno di quelli che indosso di più al mare in estate col suo cinturino in gomma seiko anche lui un ottimo bella cassa samurai resistente 200 metri monta classico calibro entry level di seiko automatico che però è un calibro affidabile e simpatico e abbastanza preciso è un po lento è sempre casa seiko con lo stesso calibro base base di seiko 4R35 ho questo prezage un orologio della serie prezage automatico quadrante cocktail ecco questo l'ho preso appunto perché mi piaceva molto il suo quadrante eh sì come tutti questo è un fondello a vista ha un cinturino originale il suo cinturino originale non mi fa impazzire forse un giorno proverò a cambiarlo perché non è nulla di che invece il quadrante mi piace molto ha dei riflessi veramente meravigliosi alla luce del sole poi ok veloce poi sempre seiko passiamo a questo vintage che è un cronografo calibro calibro 6139 bravo lo storico calibro cronografico innesto verticale di seiko bello questa è la referenza 70-80 che bello che è questo col suo bracciale originale tutto originale in ogni sua parte revisionato recentemente ed è in condizioni veramente veramente ottime cavolo acquisto qualche vintage ma li cerco sempre solo in condizioni eccellenti ma se dipende non non amo gli orologi diciamo che rovinati ma no ma nemmeno io amo gli orologi rovinati però se sono vissuti mi piacciono eh cioè li ho nei miei orologi in vintage per esempio ho uno veramente no tirato fuori dal cassetto della gioielleria col cartellino ce l'ho che sarebbe l'ultronic e poi ne ho altri uno l'ultimo che ho preso addirittura l'ho scelto proprio perché aveva il quadrante rovinato aveva fatto una un viraggio diciamo così particolare che poi ho riscontrato in altri esemplari online con quei quadranti lì che è veramente quasi brutto a guardarsi però mi piaceva proprio perché era rovinato perché aveva quella particolarità lì poi sì rovinati insomma se fosse da macerare chiaro che non mi piacerebbe ma un minimo vissuti anche giustamente devono avere i loro segni di usura ma io sono tutti orologi che comunque indosso spesso certo però voglio che siano ben tenuti utilizzati ma ben tenuti ma ben tenuti con i calibri in ordine diciamo con i meccanismi in ordine puliti mi stava balenando ultimamente l'idea di iniziare a collezionare i cronografi Seiko di questa serie di col calibro 61-39 informandomi ho visto che ce ne sono circa una quarantina di referenze quindi non è semplice non è semplice, può essere anche interessante focalizzarsi su addirittura un unico calibro poi ci sarebbe anche 6138 che è uscito dopo 6139 è il primo 6138 invece è uscito dopo lo riconosci perché ha due subcontatori va bene 40 referenze del 6139 implicano veramente che poi tu diventi anche un conoscitore di vita, morte, miracoli di quel calibro lì, altrimenti non ha quasi senso focalizzarsi su un'unica branca e poi magari rimanere in superficie senza conoscere tutti i dettagli, super dettagli può essere da una parte interessante e dall'altra anche noioso perché poi dopo ti porta via tante risorse e non scopri il resto riuscire a trovarli tutti in buone condizioni poi tra l'altro alcuni modelli come il famoso Pog e o il Bruce Lee se in condizioni ottime adesso sono dei prezzi abbastanza elevati devi anche saperli riconoscere però magari piano piano riuscirò a mettere su questa piccola collezione settoriale settoriale ci piace settoriale dei cronografi con questo carico storico poi passiamo forse a quello che forse anzi quello che io ritengo sia il pezzo forte della mia collezione di orologi giapponesi che è questo Grand Seiko automatico movimento 6-5-4-5 referenza 70-10 high beat anche degli anni 60 questo anche tutto completamente originale 36.000 alternati però il suo fondello condizioni direi meravigliose anche lui purtroppo di questo non ho il bracciale originale ho messo questo cintorino però comunque un orologio veramente 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 bello e tra l'altro precisissimo perché diciamo che lo scarto giornaliero si attesta tra più o meno un secondo mamma mia complimenti considerando che è degli anni 60 direi che comunque tornando al discorso cinturino non originale bracciale originale perché ho visto che hai fatto un sospiro come dire purtroppo io in realtà stavo pensando che non cioè sul discorso cinturini bracciali non è una discriminante per me così importante anzi spesso me ne sono accorto ora che non ci faccio assolutamente caso se mi presenti un orologio con un cinturino un orologio vintage con un cinturino nuovo non coevo non coerente non originale ma per me è normale perché e sui bracciali lo stesso e ci sono un paio di eccezioni che però mi vengono a mente così al volo il bracciale a cartucera del Brightling Cronomat e il bracciale armadillo del mio Omega Deville ecco quelli sono due due motivi per i quali uno compra quasi quell'orologio per cui i bracciali poi il resto ora non so questo qua com'era ma probabilmente per preservare l'idea dell'originalità di un dato soggetto tutti gli elementi di quel soggetto dovrebbero essere originali quindi anche il bracciale però va bene per me non è importante è un ottimo è un ottimo scarto ecco ok questo era l'ultimo dei giapponesi poi brevemente vi faccio ancora vedere un paio di orologi che non sono made in japan ma hanno calibro giapponese e va bene allora tutti li mostro tutto il mondo e sono questo Bulova Marine Star Diver 200 metri hai rovinato tutto movimento Miota serie 8000 brutto l'ho vista open art cinturino in gomma colorato diciamo che è un orologio estivo che va bene per l'estate per fare il bagno queste situazioni come per fare il bagno a livello tecnico nulla come per fare il bagno classico movimento Miota non capisco perché per fare il bagno cioè a tutto l'aspetto cioè non è proprio un orologio da spiaggia vorrebbe essere con l'open art la secondina questa leziosità un orologio elegante quindi assolutamente non è un orologio sportivo da portare al mare in quel senso lì non è un diver quindi te lo usi al mare è veramente fuori contesto secondo me poi l'impermeabilità c'è sì ci sarà però però è brutto cioè hai rovinato tutto perché avevi tutta questa bella collezione di orologi giapponesi proprio da sopraffina con un certo anche alone di interesse dietro e poi ti presenti col bulova open art con i numeri romani l'open art era anche evitabile tra l'altro è l'unico open art che ho che ho in collezione perché non è una tipologia di orologi che amo e per concludere la cioffecca del giorno te l'adotto che è quello che indosso oggi classico invicta professional diver professional 200 metri professional che devo dire comunque fa suo sarà un omage una cioffecca ma io lo trovo ben fatto per il prezzo considerando inferiore ai 100 euro come orologio ecco da da battaglia classico orologio da battaglia direi che che può andare bene sì nulla con questo concluso meno male spero vi siano piaciuti i miei orologi certo volevo chiederti davide a me cosa ne pensi dei se sei informato in merito dei 6 con calibro 6139 secondo te se può essere una buona linea di collezione con una buona linea da prendere per collezionarli e nulla ti ringrazio da prego un saluto un saluto a tutti gli amici del canale e magari ci rivedremo presto con l'altra parte della mia collezione che è quella degli orologi svizzeri va bene un saluto rock rock magari la prossima volta con un po' più più di brio un po' meno melenso perché comunque va bene la domanda è 6139 ti ho risposto prima è certo che può essere interessante però ogni volta che vai cioè devi anche deciderti sei disposto a rinunciare a mettere risorse quando dico risorse vuol dire energie di studio tempo di studio risorse economiche concentrazione su di un unico calibro e poi inevitabilmente lasciare da parte tutto il resto del mondo dell'orologeria sei disposto bene interessante lo è come ti dicevo è interessante anche il 6138 che è quello con due contatori anche perché io li guardavo anche qualche settimana fa guardavo ci sono dei Seiko 5 che montavano il 6138 speed timer e poi dopo lì si va anche poi dopo dopo va anche nel difficile perché ci sono anche le versioni giapponesi le versioni domestiche se vuoi proprio dopo vuoi essere al 100% dentro quel mondo lì devi studiare veramente devi ma non solo studiare le referenti devi anche studiare per non rimanere fregato perché come dici te la versione il Seiko Pog ci sono anche degli accrocchioni che poi dopo rimani deruso spiace dirlo ma è così però se me lo chiedi vuol dire che te lo senti se te lo senti fallo cioè fallo procedi in quella direzione lì ecco magari invece di collezionare tutti i giapponesi a quel punto lì smetti di collezionare Bulova col Miota 8000 dentro e ti piglianzi un Seiko 6139 6138 sì dai te lo appoggio vai prossimo video ciao Davide ciao complimenti per il canale grazie e qui l'amico qua ci già subito da la leccatina no al presentatore mostrando la maglietta questa è la maglietta che avevamo fatto fare per il watch meeting l'anno scorso dove c'è l'amico Piero e il buon Giacomo che chiaramente Piero mi sta rubando l'orologio perché quello è quello che sa fare lui altro no bella maglietta bravo 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 love love me l'ha messo nella mano sinistra quando io ce l'ho nella mano destra bravo grafico ti ringrazio perché da quando ti seguo mi sono appassionato ma tanto veramente tanto alle tovaglie ed ho fatto questo video per farti vedere la mia tovaglia è una maglietta ma è una tovaglia che ganza cominciamo subito con i chauffeur alert per cortesia comunque dato che sei uno che ci capisce dei orologi ho fatto un paio di domande su quale braccio si porta l'orologio io sono costretto a portare gli orologi a destra perché nel polso sinistro non mi piacciono sembra che cambino completamente aspetto naturalmente sono dettagli che solo un occhio esperto può notare quindi prima che tu risponda alla domanda ti faccio vedere i miei orologi indossati in entrambi i polsi ora intanto sono dettagli che solo un esperto può notare cioè se uno lo porta a sinistra o a destra solo un esperto lo può notare anche mio nipote di 16 anni lo nota a destra a sinistra io ad esempio non riesco a portarla a destra non riesco a portarla a destra mi sento come un peso estraneo al polso veramente faccio fatica è questione d'abitudine o porto più volentieri a sinistra poi perché si porta a sinistra si è mai capito perché uno dei motivi è che la maggior parte delle persone sono destre quindi svolgono le attività la maggior parte con la mano col braccio destro apro chiudo e quindi l'orologio qua sarebbe quello nel punto più passibile di urti battaglie le fasi sul polso destro il polso sinistro dovrebbe rimanere più a contatto con il corpo e meno attivo e quindi l'orologio è più protetto va bene poi ci sono i mancini e loro faranno il contrario invece no a volte i mancini vabbè ma ognuno fa come vuole ma allora parto con il mio daily watch è uno sportivo piccolo e braccialato da un blu intenso preso nell'uovo di pasqua ma valido anche a natale indossato nel polso sinistro il blu via per metà in un nero che lo fa sembrare anche un po' più grande non so se riesce a vedere la differenza c'è differenza anche nel bracciale ma non credo si possa apprezzare dal video comunque è evidente che nel polso destro è migliore questo è un orologio che non può mancare nessuna collezione di uova di pasqua passiamo ma io non so se mi stai prendendo per il culo o stai facendo sul serio vabbè stai prendendo un giro cambia il colore non capisco ora il mio subacqueo modello a batterie molto bello che fa il suo talmente bello che lo porto pure scarico con un cinturino adattissimo per quei momenti da uomo vero ma perplesso purtroppo nel braccio sinistro anche questo orologio presenta piccole differenze sembra cambiare proprio colore e forma ho capito avvicinandosi allo schermo si vede bene ah stai facendo è una battuta è una battuta cioè è una scenetta è una gag ci sei fare ci sei fare cioè panariello ti fa una pippa bravo bravo ed ecco l'elegante un agrocio dai colori caldi e cangianti dagli diventini perfetti per il mio polso anche questo bello bello e fa il suo indossato a sinistra continua ad avere dei riflessi molto belli ma il corante sembra riempirsi di piccoli segmenti verdi sembra erba tagliata magari di Wimbledon procediamo con un crono un orologio che mi accompagna da 35 anni a batteria ma ancora funzionante tuttavia indossato a sinistra pur rimanendo esteticamente identico azionando il cronometro invece del classico tip acustico si sente un fastidioso clap avrà sicuramente bisogno di una revisione per ultimo vi presento il vintage il primo orologio in assoluto che ho avuto dei colori acciaio oro molto classico indossato a destra non funziona proprio sembra rotto ma rimane bello bello e fa il suo invece indossato a sinistra sembra rinascere e non dimostrare la novantina di anni che ha sulle lancette però si perde completamente la colorazione acciaio e sembra essere tutto oro giallo spero che avrai notato le differenze e potrai rispondere alla domanda quindi passo la domanda successiva mi piace tantissimo il cronografo Maserati a batterie ma ho un dubbio secondo te se lo indosso a sinistra che succede un mio amico portoghese sostiene che sembrerà un cronografo rotondo mentre un altro amico di Monaco è convinto che sembrerebbe un cronografo di forma ciao ciao fammi sapere ma secondo me assomiglierebbe a un cronografo di forma un bel monaco quadrato e ti toglie la paura bravo amico sei stato simpatico questo era l'ultimo video proprio quello che ci voleva per chiudere la puntata insomma diciamo che devi migliorare un pochino in recitazione ed interpretazione perché si faceva fatica a comprendere va bene dai contento ti bevi agli orologi chiaramente quello che ci voleva dire l'amico che c'ha per ogni orologio superlativo che ha c'è la controparte ciofecosa e quindi ha fatto il gioco del polso destro polso sinistro che ci abbiamo messo un po' perlomeno io ci ho messo un po' a capirla si poteva fare meglio dai va bene dai ragazzi mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video tranne l'ultimo chiaramente e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube Love Love